Uno degli aspetti più amati di After Effects per il quale più si utilizza questo software è l'animazione. In questa lezione voglio mostrarvi quelle che sono le basi dell'animazione e quali sono i controlli che si utilizzano per realizzarle. Innanzitutto la maggior parte del lavoro che svolgeremo la svolgeremo all'interno di due aree ben precise. Uno è la nostra timeline, l'altro invece è il nostro pannello di composizione. Il pannello di composizione ci permette di realizzare delle modifiche grafiche e visive. Mediante l'ausilio del nostro mouse possiamo prendere un oggetto e spostarlo all'interno dello spazio. Mentre all'interno della nostra timeline, aprendo quelle che sono le varie opzioni dei vari livelli, possiamo andare a realizzare le nostre animazioni. Come si realizzano le animazioni? Le animazioni si realizzano inserendo all'interno della nostra timeline dei keyframe. Cos'è un keyframe? Il keyframe è un punto all'interno dello spazio a cui associamo un valore ad una determinata operazione. Vado a spiegarmi meglio. Se io ho il punto 0, quindi al secondo 0, o meglio ancora al fotogramma numero 0, se io ho il fotogramma numero 0 della mia timeline, voglio che la scala del mio oggetto sia del 50%, mi basterà cliccare su questo simboletto qua. Questo simboletto è fondamentale perché lo ritroviamo accanto ad ogni opzione all'interno di After Effects che sia all'interno del nostro pannello della timeline che all'interno del pannello controllo effetti per animare quelli che sono gli effetti che possiamo applicare ai nostri livelli. Cliccando su questo pulsantino che si chiama stopwatch, noi abiliteremo i keyframe per l'animazione di questo parametro, cioè della scala. In questo momento, cliccando questo pulsantino, in automatico mi è stato generato il primo keyframe. Il keyframe è questo elemento di forma romboidale che ci dice che al punto 0, quindi al fotogramma numero 0, la nostra scala ha un valore di 50%. Se io mi sposto al fotogramma 30 e dico alla mia scala che deve essere di 100, in automatico mi verrà generato un altro keyframe, questo perché abbiamo lo stopwatch attivato, e in quest'altro keyframe io avrò il mio parametro di scala impostato a 100. Ora cosa succede? Che il software in automatico creerà un'interpolazione tra i due fotogrammi andando ad animare questo parametro. Infatti se mi sposto nello spazio ho creato un'animazione e questo mio cerchio si ingrandisce e diminuisce. Ci sono tante altre operazioni che possono essere effettuate con i keyframe. In primis selezionandoli possiamo spostarli. Possiamo selezionarne uno, così cambiando l'interpolazione dei vari fotogrammi. Ciò significa che se io vado ad allungare due fotogrammi, li vado ad allontanare e sto andando ad allungare la mia animazione. Ma posso tranquillamente spostarmi sul keyframe, cambiare il parametro e questo verrà aggiornato. O ancora di più, io posso spostarmi e andare ad aggiungerne un altro. Quindi voglio in questo caso diventi 120, quindi la mia animazione sarà cambiata perché ho aggiunto un altro fotogramma chiave. Questi fotogrammi possono essere, come detto, spostati, allungati, insieme e non. In questo momento quello che noi stiamo vedendo è la cosiddetta interpolazione lineare tra i vari fotogrammi. Ossia il software decide in base lineare come interpolare i due fotogrammi. Cosa significa? Che sia il fotogramma a 0, il parametro di scala è 50, al fotogramma a numero 60, il parametro di scala è 120, lui farà un calcolo e una media per il quale al fotogramma a 30, cioè a metà, la differenza di scala sia esattamente la metà. E così facendoli fa un calcolo per tutti gli altri fotogrammi. Ma questo metodo di animazione ne possiamo andarlo a cambiare facendo una variazione a quelli che sono i nostri keyframe. Infatti nel nostro pannello della nostra timeline abbiamo questo pulsantino che ci abilita un altro tipo di visualizzazione, che è quello del graph editor. Se ci clicchiamo all'interno del nostro graph editor vedremo quelli che sono i nostri keyframe, ma visti in una maniera totalmente differente. Quindi non più posizionati all'interno dello spazio, ma posizionati secondo un'altra tipologia, quindi con un altro parametro. Quindi su un asse cartesiano vedremo il tempo e il valore in questo caso. Ci sono diverse tipologie di visualizzazione in base ai parametri che andiamo ad animare. Nel caso della scala quello che noi andiamo a vedere è questo genere di grafico qui. Tipologia di grafico che può essere cambiata cliccando con il tasto destro all'interno del nostro graph editor. Noi abbiamo questa spunta che di base viene effettuata che ci dice selezione in automatico il tipo di grafico. Noi possiamo decidere se modificare il valore, in questo caso stiamo vedendo la modifica del grafico per i valori, oppure di modificare quella che è la velocità, che è un altro concetto ancora, la velocità di cambiamento tra un fotogramma e l'altro. Se andiamo a far decidere al software quale diagramma, quale grafico mostrarci, in questo caso è quello della scala, ci mostrerà quello di modifica per valore. Se io vado a selezionare un keyframe o tutti quanti, in basso a destra mi compariranno una serie di opzioni. Queste opzioni mi servono per cambiare la tipologia di interpolazione tra i fotogrammi, utilizzando quelle che si chiamano curve Béziers. Le curve Béziers sono una curva matematica che ci dà la possibilità, attivando ad esempio la curva Béziers, di avere delle maniglie dette Handle che ci permettono di cambiare il modo in cui la nostra curva di passaggio tra un valore e un altro venga cambiata. Ad esempio facendo in questo modo qua, noi realizzeremo una curva esponenziale. Questa modalità per tutti i nostri keyframe creeremo una crescita detta esponenziale, perché cresce lentamente però a un certo punto ha una repentina crescita. E questo lavoro è il lavoro che fa l'animatore, quindi va a lavorare su quelli che sono i grafici sia di interpolazione tra i valori dei vari fotogrammi che quelli relativi alla velocità. Come vedete, cambiando quelli relativi ai parametri, viene modificato anche quello che è il grafico relativo alla velocità e l'accelerazione con il quale cambiano i parametri. Quindi tutte le operazioni che faremo in uno dei due grafici avrà effetto anche sull'altro. Tornando all'interno della nostra visualizzazione della nostra timeline, noteremo che i nostri keyframe hanno cambiato quella che è l'icona. Non c'è più la forma romboidale, come di questo keyframe qui, ma è cambiata in quest'altra forma. Questo perché abbiamo cambiato l'interpolazione del nostro keyframe. Gli abbiamo detto che deve essere interpretato diversamente. Ma questa iconcina e questa modalità può essere variata anche all'interno di questa visualizzazione qui, della nostra visualizzazione a livelli. Come mantenendo premuto sulla nostra tastiera il tasto command e cliccando con il tasto sinistro del mouse sul nostro keyframe. Con questa operazione quello che noi andiamo a fare è letteralmente cambiare il tipo di interpolazione con il quale il nostro keyframe, con il quale il nostro software ragiona, in questo caso su come ragiona nell'interpolazione tra i due valori o tra i tre valori dei nostri keyframe. Ci sono poi delle opzioni come ad esempio quella della posizione che se noi andiamo ad animare con lo stesso ragionamento, se noi andiamo a selezionare il valore della posizione, noteremo che il grafico che ci viene mostrato è diverso da quello rispetto della scala. Questo perché andiamo a visualizzare in automatico quello che è il valore della speed, della velocità. Perché nel caso della posizione ad esempio è molto meglio ragionare per After Effects con il valore della velocità d'animazione. E infatti noi possiamo andare, lavorando diversamente sulle curve, ad aumentare l'interpolazione dei keyframe in modo totalmente differente, riuscendo a creare così delle animazioni più complesse. Grazie a tutti.